Femmere, tu sei una meva, femmere, chi stua che hai fatto e chi angere, non me posso più domandacare. Sardinieri, contadini, facchini, uomini di fatica, uomini a mezzatria, mezzatri, mezzatresse, figli dei contadini abbandonati, lavoratori della terra. Dega! Come? Dega! Scusa, vuoi parlare francese? No. Spicca anglico? No. Regrenci d'oggi. Neanche. Hablo spagnolo? Cavarito parruzzo? Ma che parruzzo? Che so le notte, parlo italiano. Ah, lei parla italiano? Parlo italiano, benedetti Dio. Dunque? Diceva deca, lei. Deca, lei? Ah, dica! Voleva dire dica, ho indovinato. Eccovi qua. Dica, dove va con questa secomera? Io? Eh. Un crito. Vuol ripetere, scusi? E che dove va con questa secomera? Veramente io sono solo? Con questa baldanza, con questa scurezza. Ah, secomera! Lei dice secomera, comera, che ne so io comera? Dunque questa, se non erro, è la villa del sindaco. Sì. Ecco il sindaco, sto da gente, uè. Non si arrabbi, ha capito, villico? Ha capito? Si ricordi che lei qui in Italia è un ospite? E io sono italiana, non fanno speratose? Fammi lavorare che devo portare un gesto a me, l'ulto di pena, l'architetto. L'ingegnere, l'avvocato, quale architetto è architetto? Si dice orchidea. Comunque il sindaco non c'è. Non c'è? E dove è andata? E dopo il fatto di ieri è ricoverata dalla clenaca. Alla clenaca? Eh. Alla clinica? Eh. Fatto di ieri. Eh. E quale fatto di ieri? Ah, ho capito, una sciocchezzura, sì. Sciocchezzura, vedo che è successo in Filemonte. Beh, beh, non esageriamo. Non è stata una sciocchezza equivocata, sì, sì, sì. Beh, va bene, allora mi faccia parlare con il nipote, oppure con quella signorina Poppi. Ah, la ballare che è? Eh, la verità. Eh, sono partiti. Sono partiti? Eh. No, sono partiti. Eh. E come è possibile? Eh. Ecco, come dove ne fa la raccomandazione? Ha telefonato per Milano, per Discordi? Ecco, partiti così. Sono partiti entrambi? No, che tram sono partiti col taxi? Ah, col taxi? No, a chi c'entra il taxi? Non mica domandate sono partiti a piede o in taxi? O dovete ne entrambe, perché sono partiti tutti e due. Eh, sì, sono partiti a piede, per forza. E dove sono andate? Dove sono andate? Crepi. Eh? Come? Crepi! Ma grepi tu e tua sorella, sa? Animale che lo trova da uno schiaffone, sa? Beh. Come si permette? Inadeguatevi il lanzone con le altre. Io sono un signore, un garanduomo. Ha capito? Sono musicista. Sono Eugenia. Ma che vuoi da me? Eugenia Nicola? Sono un genio, ho detto. Un articolo indeterminato. Un. E ti ho detto che sono partiti per l'isola di Capri. L'isola di Capri. Eh, sta lingua. Damola forvi. No, è stata ferma. È stata ferma, ribassata. Capri, sono andato a Capri. Io potrei raggiungerli. E giù. Io posso raggiungerli. E chi me lo vieda? Nessuno. Chi ora so? Sì, sono le cose e tanto. Eh, ci vanno con quarta. Ci vanno con quarta. Faccio a tempo. Vado. Va, va, vai. Come? Ha detto noi che lo stiamo parlando, no? Lo stiamo dicendo. Vado a Capri, a Crepi, l'isola delle sirene, l'isola piccola, l'isola grande, l'unghia marina. Eh, bacca là. Ah.